Jim City, buono il servizio in profondità, scattano Puskac e D'Alessandro che tiene il pallone in gioco, cross profondo, Boricini, tutto solo, spreca d'ottima posizione, che opportunità il trentatresimo per il Benevento. Milan completamente sbilanciato e sorpreso da una palla giocata in profondità, Borini in ritardo clamoroso su Parigini, che grazie a Donnarumma.